Ciao a tutti, un saluto di G-Brothers, qui Ale C'è anche Fede? Ok, vai! E lei che mi stava con Forza a giocare al GPT-6 Ok, quindi, starter! Bubble Edge, ho provato Mitros che... Ho provato Mitros che, in poche parole, quando il nostro vang attacca è la terza ondata ho dato il nuovo archivo di Akkofors che c'è il segno solo di battaglia, è un nuovo emozionante e il nostro vang con Savas attacca posso cacciarlo in soul schierare dal mazzo un galote Savas che ha finito un citone in mano quindi fa un attacco e ti diceva un grado 3 però con lui, quando unità attacca peschi 2 peschi 1 per la quarta battaglia essendo che lo dai su Tidal qualsiasi carta che gli stenda per lui peschi 2 peschi 1 ma grazie ad acqua forse peschi 2 poi Savas doveva giocarlo spiega la carta 6 skill così postante ha 6 skill quando unità attacca da quarta battaglia scegli 3 e un unico scegli 3 dopo gb1 gb2 attacca per quarto per ne crit e dopo non può segare 0 poi nuovo arrivo skyros è fortissima questa carta da qua fino a quando uscirà il nuovo Savas in gb13 ciò che era solo questo non si cambiava quasi mai perchè per il proprio penso che continua in gb1 la nostra fronte per resist compreso lui no ah il retro quindi però sennò contro delitto era troppo forte contro delitto quindi delitto non si faceva nulla si poi c'è l'alta che non c'era così nulla però quando e quando entra c'è la nostra unità che gli dai gli effetti che quando attacca per terzo qua dai 5 e prende un grado 3 vabbè buono comunque ti aggiungi un grado 3 dai 2 teedal carta top degli del clan c'è fa due attacchi sicuri quindi bisogna giocarla se non riuscite di perilla c'è ci sono alternative però c'è la vita e bisogna spieghi cosa fare attacca attacca il vanguard si stenda e perde 5 esatto una volta solo Adelaide 2 nuovo arrivo si Adelaide carta fort anche lei cos'è una doppia una doppia si entra tappi 1 solo basti 1 gp1 se abbiamo vanno con Savas galore 3 superiore quindi parte anche con la stride se avete skyrold esatto parte anche con la stride se non avete Savas sotto prende più 2 effetto che quando attacca si stenda e boh deve attaccare vanguard una morte del turno e si ristende poi la seconda volta sempre 2 mino ma puoi attaccare anche la retro la seconda volta è giusto ok e Magnum Magnum si gioca con non c'è altro dal trial deck quando è supportato cattroblast1 in gp1 embellclone tappi 1 si stenda e prende più 2 quando viene supportato in gp1 allora poi gradi 1 4 pg allora prima giocavo quelle vecchie se vi ricordate le mie vecchie decklist i gbt2 giocavo quelle vecchie quelle che parlavo anche retro di bt11 però ho voluto cambiare quelle che fanno counter charge perchè il mazzo ora ne usa molti di counter blast quindi per maneggiare un po' di più ne ho voluto giocare queste che insomma è ho ritenuto migliori portofodder ovviamente perchè vogliamo sia stridare e vogliamo vedere salvastin vanguard ok nuova carta malegna malegna fortissimo allora a resist sottolineiamo a resist e già quella è forte nel meta di link è già forte e in questa meta che ci stanno un botto di caos un botto di messagno qualche vanquisher nel caso qualche radicatore esatto ci serve questa carta in gb1 quando attacca si attesa battaglia terza ondata non è che cambia molto si attesa ondata ne abbiamo avuto con savas attacchiamo 1 prende più 5 e peschiamo 1 semplice ah pesca anche pesca anche quindi questo fortissimo per aqua force ultimamente pesca 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 ci sta anche il g2 che fa stessa cosa e deve resist anche lei due stasia cioè nel gioco perchè non so cosa giocare meglio cioè posso giocare ortia però anche quelle con counter blaster no quindi per avere resist no resist si ma counter blaster quindi c'è il mazzo che ne usa molti quindi per sicurezza sono queste che c'è attaccano da back posso attaccare attaccano da back in gb1 e vedo più 3 attaccano da back quindi sniper da dietro da dietro da dietro da dietro trigger ne manca una sp però secret allora tra cui 4 sono quelli classici di sa sono di savas quei nuovi che cacci solo quando vanno con savas attacca gli dai più 5 peschi 1 si e questo cacciarlo in sopra e stappare 1 ancora utile perchè i mazzi di counter blast come ho menzionato prima con le pg non usano tanti counter blast non ho voluto mettere i 4 ma il gioco 6 draw perchè questo mazzo i pezzi li vuoi vedere già da early game essendo che tu peschi per lo più quando sei tipo a stride vuol dire 6 draw sono molto più consistenti che avere 8 crit vuoi lasciare si voglio lasciare proprio in end game e quindi avere 6 draw servono per vedere i pezzi prima specialmente malika che cacciamissori dava 3.1 perchè con tidal essendo che lui perde power dai a lui e puoi fare con migliora la colonna si e puoi attaccare vandard oppure puoi attaccare anche la prima volta vandard si e quanto pure perchè non ne posso fare a meno vabbè possiamo in deck passiamo alla edge zone che è quanto commander savas è la nuova stride allora lo attivabile che quando possiamo flippare la sua copia per dare un elettro a un elettro 5.000 è l'effetto che può accadare a back row quindi normalmente questa cosa la farete con malenia perchè a me così davanti potete metterci le carte che dove c'è si si il tidal o il tidal attacca tidal malenia qualsiasi attaccante del g2 e ha un altro effetto che è in gb3 no vabbè quando attivi l'effetto puoi prendere un altro effetto che è in gb3 può prenderla sui skill giubitel fa sui skill di tavas quindi lopo sceglie tre unità e tu no tu scegli tre unità lopo se ne spacca una praticamente quindi se avete tavas sotto come g3 spacchi due praticamente ne spaccate due fondamentalmente la quarta batto la cosa che sceglie lopo però è buono cioè poi anche se in questo meta secondo me uno vorrà avere molto spesso skyro skyros si ma e vabbè uno può scegliere comunque comunque poi la carta top o tira la carta top del clan l'ambros esatto cazzo questa carta che ho segnato meta cioè stand up guarda battle quando attacca giusto per il basso effetto guarda battle clippiamo copia stendiamo due retro e se abbiamo dupli cazzo cazzo quindi normalmente vuoi fare prima con madre savas per pescare così così poi l'ambros normalmente due lam resistere per due turni questo qua è difficilissimo se il basso parte bene ma più che altro se rushi poi dopo un paio di stride o hai vinto oppure vuol dire che c'è qualcosa che non va vuol dire che stai perdendo c'è anche se l'oppo sopravvive ai due ramblos è quasi impossibile che beh riuscire a vincere perché che ciò ha fatto si ma l'hai vinto dopo vabbè si come abbiamo fatto in vanguard non esistono mazzi invincibili comunque comunque cioè questa dapp file spero che vi è piaciuta è l'unico cambiamento che posso suggerire se non mi piacciono le quattro e malegna potete mettere potete tornare la quarta e cioè non so metterci una stasi non ha toccato due potete metterci qualsiasi scrittà ci potete mettere di tutto infatti questo mazzo è molto personalizzato cioè come uno si può trovare diciamo ognuno lo può si anche se le liste sono praticamente standard esatto però va bene se vi è piaciuta lasciate un mi piace iscrivete al canale e attivate la campanella per essere aggiornati dai nostri ultimi pubblicazioni ciao a tutti ok ciao